Venti a me, super albergo, super lusso, super soldi, accollati, guadagnati. No, ci siamo guadagnati i soldi e adesso lui ci sta facendo sprecare tutto. Si capisce che siamo in cinque così? No, dio caro. Comunque se volete vi invito, ma è l'ultima canna nella mia camera. Nella mia camera? Siamo tutti insieme. Eh, è una camera. Eh già, è una camera sola? Fio. È una camera sola. Ma ci hanno dato una suite? Beh, è la mia camera comunque, vi invito a fumare la camera. E' vero che vi c'è. E' un'altra cosa. Sfile in tenere stris. Sfile in tenere tru. E' sbagliato qualcosa. Sfile in tenere stris. Sfile in tenere stris. Sfile in tenere stris. Sfile in tenere stris. non si ricordo di quello che avrò mai a casa hai svein dai svein g svein g svein svein g svein zai g roba non va la luce, no devi inserirne la tessera qua ten no devi prenderla da dentro così il bagno presidenziale bagno presidenziale i bagno presidenziale vedi che ti vanno da cia pomeriggio